Salve a tutti. Anche quest'anno, purtroppo, la fase del conferimento degli incarichi da GAE e da GPS è stata costellata da innumerevoli problemi. Sono state tantissime, infatti, le segnalazioni di anomalie provenienti a più parti d'Italia e legate soprattutto al malfunzionamento o comunque all'algoritmo ministeriale che è stato tarato secondo determinati criteri che tuttavia si sono rivelati palesemente errati. Sono, infatti, numerosi i casi di docenti che non hanno ottenuto l'incarico a fronte di altri con minor punteggio che hanno potuto ottenere la supplenza. Il problema non è derivato, però, soltanto da una non corretta taratura dell'algoritmo ministeriale, ma anche da una non corretta applicazione, a nostro parere, dell'ordinanza sul conferimento delle supplenze, l'ordinanza 112. L'articolo 12 dell'ordinanza prevede, infatti, che la mancata indicazione di alcune sedi o di alcune classi di concorso nel modulo di scelta delle sedi determina una rinuncia. La rinuncia, però, è limitata alle specifiche sedi e specifiche classi di concorso non indicate nel modulo. Tuttavia l'amministrazione, nella fase di convocazione, qualora non riesca a conferire un incarico perché quella specifica sede non è stata indicata nel modulo di domanda, considera quel docente rinunciatario e non lo convoca più per le fasi successive, per le eventuali disponibilità di sedi ulteriori. Questo è un problema perché ha determinato il mancato conferimento di incarico a moltissimi docenti che sono stati visti scavalcati da altri docenti con minor punteggio. La questione è finita sul tavolo di diversi giudici del lavoro che, in alcune ipotesi, hanno dichiarato illegittima questa lettura dell'ordinanza ministeriale, ritenendo che i docenti non possono essere considerati rinunciatari a tutto, ma soltanto, come dice l'ordinanza, limitatamente alle sedi non espresse. Vedremo come continuerà ad evolversi il contenzioso. A presto!